sono sconcertato in quanto i giornali hanno scritto che io praticamente sono 45 anni che lavoro durante le feste compreso ferragosto e al mare non ci vado ma che cazzo ci vado a fare io al mare a farmi il bagno dove hanno defecato tutti i bagnanti i fiumi trasportano tutte le deiezioni dei bagnanti al mare e quindi poi io mi devo fare il bagno con l'acqua sporca che cazzo ci vado a fare poi ho da fare con il libero devo far uscire la copia del libero non mi posso permettere di andare in vacanza e poi c'è anche un'altra cosa che cazzo ci vado a fare al mare se non mi posso impegnare a fare qualcosa non mi va di fare i castelli di sabbia non mi va di giocare a racchettoni non mi va di mettermi sul bagnasciuga a prendere la bronzatura come una salamandra e quindi che cazzo ci vado a fare al mare l'unica cosa potrei imitare la bavosa di ostia che fino a 40 anni fa imperversava d'ostia adesso visto che tanto che non ci vado non so nemmeno se ancora esiste questa specie di animale che praticamente faceva così quindi adesso vi saluto perché devo tornare a bergamo mi avete fatto tornare di nuovo a roma soltanto per dire queste cazzate ma io ho da fare ho da lavorare e poi come al solito sento sempre questi fastidiosi rumori nelle cuffie di certi maleducati che dovrebbero come dico sempre andare dalle loro madri per fare un buon corso di buona educazione quindi adesso mi alzo mi tolgo anche il microfono e me ne vado passo e chiudo